Buono, però in barca non è così La tua della barca La barca non è così Facciamo questo briefing? Il briefing adesso Il briefing si fa all'arrivo Siamo così per apportare un po' Per far riempire il start Esatto, per consumare questi 4 giga Allora, siamo all'interno della barca Ora, basta una musica perché per fare il briefing No, così abbiamo anche praticamente sottofondo Questo è il tavolo da carteggio Strumentazioni di bordo Sono praticamente, abbiamo un pannello di controllo utenze Dove, diciamo, tra queste troverete anche quella riguardo alla pompa dell'acqua E questa, qualora dovesse, diciamo, non erogare più acqua Tutti gli ospiti a bordo sono pregati di spegnere l'interruttore Poi sotto abbiamo anche un radio CD player con una porta USB Abbiamo un rinvio dei dati, prese dell'utenza 220 Che queste vengono solo utilizzate qualora siamo attaccati in banchina in porto a terra Per cui durante, diciamo, la navigazione e le soste in rada Queste prese non funzioneranno Tranne che con l'accensione del gruppo elettrogeno Diversamente abbiamo però un inverter Che ci darà la possibilità di poter ricaricare telefonina e quant'altro Che si trova sotto il tavolo da carteggio Adesso vi facciamo vedere Eccolo là Sotto il tavolo da carteggio Queste prese vengono attivate Soltanto da un membro dell'equipaggio Che potrà soltanto lui azionarlo e spegnerlo E questo è, diciamo, per quanto riguarda tutta la parte, diciamo, del blocco Carteggio, comandi Che possono riguardare comunque anche gli ospiti Invece adesso facciamo un attimo una panoramica qui dal nostro asamore Lo trovate anche un TV LCD Orologio Portariviste Una libreria Un tavolo Per pranzare e cenare eventualmente dentro Una cuccietta Dove poter sostare qualche volta Magari per non stare, diciamo, a contatto con le persone che sono sedute sul tavolo Cioè No, sono sul tavolo Scusa, sedute sul divano Per essere un piccolo, diciamo Va bene, questa è la cucina E lei è sempre Barbara Che adesso vi illustrerà l'uso corretto dell'acqua Ah, dell'acqua Ecco, l'acqua, ne abbiamo, abbiamo 600 litri di acqua E ovviamente dobbiamo utilizzarla con molta parsimonia Perché altrimenti questi 600 litri finiscono in tempo reale Quindi, innanzitutto, durante la navigazione Se abbiamo bisogno dell'acqua Utilizziamo Questa pompetta dell'acqua di mare Che sarebbe questa E l'interruttore si trova praticamente qua Perfetto Questa è la nostra pompa Dell'acqua di mare E la utilizziamo Per quando laviamo i piatti Per insaponare Cioè, dopo aver insaponato L'aviamo prima con l'acqua di mare E poi dopo diamo l'ultimo risciacquino Con l'acqua E la facciamo scorrere Con l'acqua dolce, amore Sì, l'acqua dolce, scusate Con l'acqua dolce La facciamo scorrere Lentamente E a intermittenza Cioè, non la lasciamo sempre aperta Perché è così E questo è quanto Per quanto riguarda l'acqua Poi L'uso della cucina Vabbè, tutti quanti possono utilizzare la cucina E abbiamo Un frigorifero Che è questo Molto comodo Capiente E soprattutto molto fresco E accanto abbiamo Un vano fresco Che utilizziamo Per frutta e verdura Non è un frigorifero Però E' accanto Qui abbiamo Il gas E il nostro forno Lo spazio c'è nel cuotore Sicura di questo Sicura di questo Sicura Quando abbiamo il gas Dobbiamo Trocarlo Con questa Con questo Ecco qui Questa levetta Questa levetta Che è una levetta Ma sicura E anche il forno Ha una sicurezza Una levetta di sicurezza Che è questa Bisogna tenerla Sempre chiusa Che altrimenti Qui riescono Le pentole Poi Questo è per quanto riguarda La cucina L'uso dell'acqua Per quanto riguarda L'acqua Altra cosa essenziale Da sapere È che durante la navigazione A motore L'acqua Arriva a 90 gradi Perché si riscalda direttamente Con il motore Per cui arriva bollente E quindi bisogna fare Molta attenzione Quando si apre l'acqua Soprattutto Quando ci si fa la doccia Perché se si apre Prima l'acqua bollente Arriva un getto Ma guarda Qui devi guardare Questa è la telecamera Custionante Però stavo facendo Il briefing Però guarda Se io questo filo Devo inserire là Stiamo facendo una cazzata È bruttissimo Vabbè Lo stiamo provando Perché non è Si deve provare